Una forte scossa di terremoto, di natura sussultoria, è avvenuta nella città di Napoli alle ore 19 e 08. Avvertita chiaramente in tutta la provincia, si temono gravi danni. Molti cittadini sono scesi in strada, e non si hanno al momento ulteriori informazioni. Ma di certo la scossa è stata molto forte, della durata, da noi avvertita, di circa 10 secondi. Panico dunque nel napoletano, ed anche in provincia. Siamo in attesa di informazioni più dettagliate, e della localizzazione dell'epicentro, che pare essere nei campi flegrei e quindi nel puteolano. Se così fosse si tratterebbe certamente della più potente scossa in area flegrea degli ultimi decenni, in quanto avvertita chiaramente in tutta la provincia, ed anche oltre. Grazie. 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 Grazie.